Sabato 22, domenica 23 giugno, tutti a Silicagnana per la tradizionale Maccheronaia, un'occasione per scoprire il centro storico nel paese conosciuto anche per la Sacra dei Maccheroni. Dalle 19 in poi potete apprezzare un percorso degustativo con i tipici prodotti locali nelle storiche aie e nelle piazze dell'antico borgo di Silicagnana. 22 e 23 giugno, tutti alla Maccheronaia. Grazie a tutti.